Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e da oggi si riprende ufficialmente con la nuova stagione, quindi video regolari, si torna a pubblicare spesso su YouTube e ragazzi, prima di cominciare, come al solito, immancabile, Pampling. Vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7Potter, da ora in poi, avrete sempre un paio di calzini super nerd in omaggio, con qualsiasi ordine, e il mio codice sconto è accumulabile con tutte le nuove iniziative di Pampling, quindi con tutte le offerte di Pampling. Da poco sono disponibili anche i nuovi zaini, io ne ho già uno e ve l'ho già mostrato anche su Instagram, qualora non mi seguiste, ragazzi, Antonio.seria mi trovate su Instagram, mi raccomando. E detto questo, ragazzi, oggi di cosa parliamo? Oggi cominciamo col botto, cominciamo alla grande, perché parliamo di una nuova replica, ma una replica che cercavo da tantissimo tempo e nessuna era all'altezza delle mie aspettative. Anche Primark ha provato a realizzarne una, ma non l'ho acquistata perché non mi piaceva. E, ragazzi, come potete vedere qui accanto a me, ho due pezzi che vi ho già mostrato, due pezzi della mia collezione, e sono stati realizzati dall'Artigiana. L'Artigiana la trovate su Instagram, vi lascerò tutti i suoi riferimenti sotto in infobox, dove trovate anche il link alla mia vetrina Amazon. E, ragazzi, l'Artigiana, secondo me, è una delle migliori artiste in campo potteriano. Fa delle cose davvero sempre sempre di altissimo livello, come vedete qui accanto a me ho una mandragora in scala 1 a 1, ma è possibile ordinarla da lei in qualsiasi versione misura, anche più grande o anche molto più piccola. E qui accanto a me c'è anche una commissione che le avevo chiesto, che è una prugna dirigibile col suo cartellino da mettere accanto, che a me piace tantissimo. Ha anche questo effetto di prugna dirigibile, appunto, volante, che a me fa impazzire. Ma cosa ha realizzato adesso per la nuova stagione L'Artigiana, prima della stagione Natalizia, che è quella dove sfornerà tantissime decorazioni? E, ragazzi, spero di mostrarvele anche qui sul canale, perché quest'anno albero a tema Harry Potter, ormai lo sapete, vi ho tormentato tutta l'estate su Instagram. Ma adesso andiamo ad aprire il nuovo pacchetto con la cosa che vi ho, in teoria, un po' spoilerato già dalla copertina. Ecco qui il pacco che mi ha inviato Fabiana, la nostra artigiana, che ringrazio tantissimo per avermi pensato e per avermi interpellato in questo progetto, che, ragazzi, io già amo alla follia e sono sicuro che vi piacerà un sacco. Ho questo pacco a casa da oltre un mese, mi è arrivato in estate e, naturalmente, non l'ho aperto, ho aspettato di registrare il video, quindi sono super curioso. Naturalmente, come avrete visto dalla copertina, si tratta della replica della tazza di divinazione, con all'interno il gramo. Come vi stavo dicendo, Primark ne ha fatta una versione, ma a me non è piaciuta, perché era stampata e addirittura il gramo era stampato all'esterno e non all'interno. Quindi, non l'ho mai acquistata. Ce ne sono tante fatte a mano da altri artisti, ma la maggior parte sono realizzate con dei puntini incisi all'interno, con un pennarello, stampati all'interno con un pennarello. E, sì, carino, ma sempre non mi avevano mai convinto. Mentre, Fabiana, cosa fa? Va per mercatini, va a trovare delle vere tazze da tè d'epoca, antiche. Infatti, ci sono tantissime tazze di tantissimi modelli diversi, sono un po' random, ce ne sono più grandi, più piccole, tazze da caffè, tazze da tè. Potete scegliere davvero quello che vi pare, ma la cosa che mi ha fatto impazzire è che Fabiana realizza il gramo con del vero tè e poi lo ricopre con della resina. Quindi, ragazzi, il risultato è qualcosa di assolutamente realistico. E quindi, lei ha scelto per me una tazza che io non conosco, non so quale sia la tazza che lei ha scelto per me e non ho neanche visto come ha realizzato il mio gramo all'interno. Quindi, ragazzi, adesso io apro immediatamente il pacco perché sono davvero super, super curioso. Ho atteso un'infinità di tempo e quindi, niente, andiamo a scoprire cosa mi ha riservato Fabiana. Ok, ci siamo. Andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno. Uh, già vedo una letterina col sigillo di Hogwarts, molto, molto carina. Ci sono tutti questi ciccioli di polistirolo. E poi abbiamo il nostro pacchetto. Mamma mia, combinerò un casino. Ok. Ecco qui il nostro pacco, qui legato con dello spago. Ragazzi, super, super bello. Anche da regalare a un panno della saga. Uh, e poi c'è un altro pacchettino che non ho idea di cosa contenga. Quindi, sorpresa, sorpresa. Io direi di cominciare subito dalla nostra lettera. Vediamo cosa c'è all'interno. È un peccato dover rompere il sigillo. Ok. Abbiamo un adesivo dell'artigiana. Questo è il suo logo. La trovate, come vi dicevo, sia su Instagram che su Facebook. E poi, ragazzi, un bel bigliettino firmato a mano. E restiamo in attesa di una recensione via Gufo. Ragazzi, io, come vi dicevo, la conosco già da tempo. E so che tutti i suoi lavori sono di altissimo livello. Sono curiosissimo di vedere cosa c'è in questo pacchettino. Quindi andiamo ad aprirlo. Ed è super, super carino. C'è anche un timbro con l'h di Hogwarts. Quindi, bellissimo. E all'interno, vediamo cosa c'è. Uh, ci sono delle caramelline. Credo siano delle caramelline. Profumano tantissimo di cioccolato bianco. Ma non sono sicuro siano delle caramelline. Ok, qui c'è scritto. Sono gocce di amortenzia. È un potentissimo filtro d'amore. Provano nel brucio essenze. 100% cera di soia. Ragazzi, fanno un odore pazzesco. A me odorano tantissimo di cioccolato bianco. Sono a forma di cuoricino. Grazie mille per questo regalo. Proverò assolutamente a bruciarle in casa. E, ragazzi, adesso passiamo al pacco principale. Sopra abbiamo anche i timbri di Grifondoro, di Serpeverde, l'H di Hogwarts. Abbiamo l'adesivo dell'artigiana. Qui abbiamo l'adesivo di Corbonero. È davvero un peccato aprire questo pacchetto. Sembra quasi una torta. È davvero molto, molto ben impacchettato. Ma adesso, lo so, mi starete odiando perché parlo tantissimo. Ma, ragazzi, sono contento e voglio spiegarvi per bene le cose. E, adesso, abbiamo tolto lo spago. Apriamo la nostra carta. Ragazzi, non potete capire da quanto tempo aspetto. E, vediamo cosa c'è al suo interno. C'è un altro pacchetto, tutto impacchettato super, super bene. Io direi di cominciare da questo, che probabilmente è il piattino. Ok, ci siamo. Ragazzi, 20 chili di Pluriball, come giusto che sia. Cosa che non tutti fanno. E, ok, finalmente siamo arrivati al piatto che già entra, vedo. Ed è proprio, proprio di mio gusto. Proprio quello che mi immaginavo. E, ok, riuscirò a tirarlo fuori, ragazzi. Prima o poi ci riuscirò. Eccolo qui. Ragazzi, è bellissimo. Ha questo stile che a me ricorda un po' l'Inghilterra. L'epoca vittoriana mi piace davvero tantissimo. Con questo filo in oro, con questi fiori. Quindi non oso immaginare quanto sia bella la tazza. Dietro è, infatti, anche il marchio. Perché si tratta comunque di un piattino e una tazza d'epoca. Che, naturalmente, potrete immaginare hanno bisogno di essere scovati nei mercatini. Hanno bisogno di una certa qualità estetica. Perché, naturalmente, non si può acquistare una tazza sbeccata, una tazza rotta. Quindi, dietro c'è davvero tanta, tanta cura. E Fabiana me l'ha raccontato più volte quanto lei ci tenga a fare tutto come si deve. E, ragazzi, sono davvero super contento di poter cominciare questa nuova stagione con un video del genere. Ok, ci siamo. Dopo 20 strati di Fluriball, ecco qui la nostra tazza. Wow, ragazzi, è bellissima. È una tazza bellissima. E andiamo... Ma è bellissima, ragazzi. È bellissima. Guardate all'interno il gramo. Ve lo faccio vedere meglio da vicino. È qualcosa di spettacolare. Ragazzi, sembra vero. È vero. È del vero tè. Sono delle vere foglie di tè. E sono ricoperte di resina e incollate al fondo della tazza. Ragazzi, questa per me è una replica che vale oro. Questa per me è una replica davvero da mettere con orgoglio nella propria collezione. La tazza, secondo me, è bellissima. Ringrazio tantissimo Fabiana per aver scelto per me questa tazza che è assolutamente come la immaginavo, quella che mi aspettavo. La replica che avrei sempre voluto trovare. È una tazza, secondo me, molto coerente con quello che può essere Hogwarts, con una tazza che puoi trovare dentro l'aula della professoressa Koeman. Ed è bellissima. Sono davvero senza parole. Guardate quanto è bella, come urla questa tazza. Sono antica. Sono una tazza d'epoca. Ed è davvero bellissima. Tazze così non le trovate assolutamente da Ikea. Non le trovate al centro commerciale. Queste fanno parte di servizi delle nostre nonne, delle nostre bisnonne. E credo che la metterò esposta in questo modo, probabilmente, visto che il manico lo permette, mostrando a tutti con orgoglio il mio gramo. Ragazzi, io sono senza parole. Per me è un pezzo delicatissimo e bellissimo da mettere in collezione. Sono follemente innamorato di questa tazza. Naturalmente, ragazzi, qualora foste interessati, contattate Fabiana, l'artigiana, sia su Facebook che su Instagram. È gentilissima. Risponderà a tutti i vostri dubbi. Come avete visto, gli imballi sono a prova di esplosione atomica. E, naturalmente, ragazzi, ditele che vi manda Antonio. Perché sicuramente ne sarà super, super contenta. E, ragazzi, io credo che a questo punto posso anche chiudere il becco e di aver parlato più che a sufficienza. Le immagini parlano da sole. La tazza è spettacolare, a parer mio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto in infobox. E, naturalmente, se acquistate una tazza dall'artigiana, mandatemi assolutamente la foto della vostra tazza su Instagram come messaggio privato. Perché le voglio assolutamente vedere. Ogni pezzo è unico, ogni pezzo è differente. Quindi sarei super, super curioso di vedere anche le vostre tazze. E, come vi dicevo prima, probabilmente porterò anche un video dedicato alle decorazioni natalizie. Perché fa delle cose davvero molto, molto belle. Fa delle palle a tema case di Hogwarts. Ha realizzato anche delle cioccorane, i pacchetti delle gelatine, tutti i gusti più uno. Fa davvero delle decorazioni molto, molto belle che mi fanno molto, molto gola. E, come al solito, cascherò in tentazione. Ormai mi conoscete. Ragazzi, detto questo, spero che questo video vi abbia tenuto dieci minuti di compagnia. Vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Tutto sotto nei commenti. Non dimenticate di infobox per tutti i dettagli. Link, pampling, amazon per sostenere il canale con i vostri acquisti. E, detto questo, ci vediamo prestissimo con tante altre novità. E, ragazzi, chiudo il becco. Ciao! 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 Grazie a tutti.